MF Ecology, una vasta gamma di servizi offerti all'insegna dell'esperienza e della professionalità. Ci trovi a Cava dei Tirreni, in via Clemente Tafuri, numero 4. Far conoscere e proporre strategie di sviluppo per i parchi culturali ecclesiali. Questo lo scopo della tre giorni di incontri tra referenti provenienti da tutta Italia, che, presso il Centro Pastorale Magliano di Vetri sul Mare, costituiranno un tavolo di confronto su questo progetto, che mira a valorizzare il patrimonio culturale e liturgico di una diocesi. Dalla giornata di oggi, fino a sabato 19 ottobre, l'Arcidiocesi Amalfi Cava dei Tirreni, guidata da Sua Eccellenza Monsignor Orazio Soricelli, ospiterà i referenti dei parchi culturali ecclesiali. Occasione unica questa per la promozione nel settore turistico-religioso dell'Arcidiocesi Amalfi Cava. Infatti, gli ospiti avranno modo di visitare il ricco patrimonio culturale e religioso della nostra costiera, da Amalfi a Ravello, da Scala a Positano ad Atrani. Con l'espressione parco culturale ecclesiale, si indica un sistema territoriale che promuove, recupera e valorizza, attraverso una strategia coordinata, il patrimonio liturgico, storico, artistico, museale, ricettivo, ludico di una o più diocesi. Le finalità sono molteplici, dall'evangelizzazione alla promozione di un turismo religioso sostenibile e consapevole, legato allo sviluppo culturale, economico e sociale di un determinato territorio, fino al recupero delle forme di religiosità popolare consistenti in riti, tradizioni ed espressioni devozionali che sono parte integrante della cultura e dell'identità di una comunità.